Ho capito subito che Madame Web mi avrebbe fatto incazzare perché all'anteprima del film alla quale siamo stati invitati da Eagle Pictures ci hanno consegnato dei gadget o meglio un gadget che era un piccolo biscottino della fortuna con scritto Madame Web. Quando ho aperto il biscottino c'è la classica frase dentro che diceva proprio queste parole avrai l'illuminazione della vita e la dimenticherai il giorno dopo perché appena ho letto quella frase ho pensato mai una gioia una volta che ho l'illuminazione della vita ma la devo pure dimenticare. Comunque a parte questo ragazzi il film è di nuovo un film mediocre che Sony ci ha consegnato dopo Morbius e infatti ha molte similitudini con Morbius. Detto questo io innanzitutto farò degli spoiler perché è inutile parlare di questo film che mi ha fatto veramente veramente irritare senza fare degli spoiler quindi se non l'avete visto tornate e andate a vederlo perché il film esce oggi che è giovedì che è giorno di San Valentino e se volete far incazzare la vostra ragazza portatela a vedere Madame Web ne rimarrà molto molto contenta immagino. Partiamo immediatamente con la prima similitudine che questo film ha con Morbius ed andiamo in Peru nel Sud America selvaggio nel quale appunto Morbius ci ha portato per cercare dei pipistrelli e qui la mamma che non mi ricordo come si chiama di Cassie Webb è alla ricerca di un ragno particolare che dà dei superpoteri e che potrebbe aiutare Sua figlia che è affetta da distrofia muscolare ancora in pancia perché ricordate è consigliatissimo viaggiare quando si è incinti all'ottavo mese e andare in luoghi molto pericolosi con il rischio di perdere il bambino ma lasciamo perdere. In questo appunto abbiamo la mamma di Cassandra Webb che è alla ricerca con questo pancione in questa foresta amazonica di un ragno che potrebbe aiutarla nella sua ricerca appunto contro le malattie genetiche. Ed è qui che facciamo immediatamente la conoscenza di Ezekiel Sims questo cattivone che spara alla mamma di Cassandra Webb e prende il ragno una volta che lei l'ha trovato quindi se lo porta a casa e scompare. Nel momento in cui lui spara alla donna viene subito assalito da questi indigeni con i superpoteri di ragno queste spider persone di una leggenda indigena molto antica che lo inseguono. Poi non si capisce se riescono a prenderlo a quanto pare no perché lo ritroveremo 30 anni più tardi con milioni di dollari in banca questo attico in città e con il ragno dentro questo terrario che lo tiene al sicuro appunto. E scopriamo anni dopo che lui ha dei superpoteri ma ci torneremo dopo perché nel frattempo la donna è rimasta ferita dopo che Ezekiel le ha sparato e viene portata da questi indigeni in una grotta nella quale lei partorisce. Beh cercando di... nella quale lei partorisce dopo aver subito il morso del ragno che appunto dà alla bambina che è Cassandra Webb dei poteri. Quindi torniamo nel futuro. Nel 2003 un film che ha tutto del 2003 comprese delle pubblicità enormi della Pepsi perché molto probabilmente Metafilm l'ha pagato la Pepsi. Neon giganteschi con scritto Pepsi Cola ogni volta che i personaggi bevono c'è una bella lattina di Pepsi in primo piano come negli anni 90. Questo film appunto è un film dei supereroi anni 90 ragazzi ha delle proprio vibes di quell'epoca alla Daredevil con il buon Ben Affleck. E continuando su questa falsariga troviamo appunto uno dei problemi principali del film ovvero come ci possiamo sbagliare il nostro villain. E' ZDL Sims che nei fumetti è anche un personaggio interessante ma qui lo troviamo per qualche incomprensibile motivo vestito da Spider-Man con la tuta nera e le ragnatele tessute sopra la tuta rosse. In alternativa lo troviamo come nei fumetti appunto scalzo e con la camicia scompigliata effettivamente non ha senso che lui si vesta come Spider-Man perché quella tuta effettivamente la crea Spider-Man. Nei fumetti non c'è traccia di quella tuta indossata da ZDL Sims ma qui siamo nel mondo Sony c'è Spider-Man ma mettiamoli dei riferimenti a Spider-Man nel trailer. Ed infatti puntualmente nel trailer ci troviamo tantissimi spezzoni del villain vestito da Spider-Man e delle Spider-Woman, il trio di ragazzine che lui vuole uccidere. Che nel trailer vediamo da grandi e quindi uno pensa magari ci sono delle Spider-Personi a parte da Gotha Johnson che è la protagonista appunto Cassandra Webb. Invece no. Invece no perché abbiamo un massimo di cinque minuti allargandomi nei quali compaiono le donne vestite da Spider-Personi appunto come le conosciamo nei fumetti. Ma appunto siamo nell'universo Sony buttiamoceli un po' di personaggi vestiti da Spider-Man nel trailer così attiviamo un po' di gente in sala no? Ovvio. Ma torniamo al nostro Ezekiel che lo troviamo appunto nel futuro che sogna che ha questi incubi nei quali viene ucciso dalle tre ragazze vestite da Spider-Woman. E quindi perché ha questi incubi? Non lo capiamo mai durante il film perché il ragno dà dei poteri a Dakota Johnson, a Cassandra Webb quindi dà dei poteri di prevedere il futuro a modo di prevedere cosa succede qualche minuto in più in avanti o in futuro. Ma lui in realtà ha diversi poteri perché come ci viene spiegato più avanti è stato maledetto per aver rubato uno dei ragni sacri che danno il potere. Qui abbiamo un altro problema perché Ezekiel appunto è quest'uomo ricco che ha creato quest'impero un po' come il villain di Morbius e deve uccidere queste donne che lo vogliono uccidere poi nel futuro? Perché sì? Perché lui è ricco e non capiamo perché? Perché ha un grande impero, una grande fortuna e non sappiamo come. Non sappiamo da dove sia uscito in realtà, da dove sia uscita la sua fortuna ma dobbiamo comunque capire i suoi motivi perché sì, lui è cattivo e quindi vuole uccidere queste ragazze e che dovranno poi essere protette da Dakota Johnson perché Cassandra Webb incontra le tre ragazze adolescenti ancora nel presente e ha una visione nella quale vengono uccise da Ezekiel, un Ezekiel che durante questa scena incredibile della metropolitana prima indossa il costume mentre l'insegue, poi non lo indossa più e poi lo indossa ancora e poi continua a indossarlo e poi si alterna questo montaggio nel quale lo troviamo prima col costume e le va ad inseguire, poi non lo troviamo col costume e poi continua ad avere il costume poi non lo troviamo col costume ragazzi è un delirio, credetemi è un delirio. Adesso quando parlo mi vengono in mente le scene del film e più ci penso e più veramente e non si sono neanche sforzati di dare un senso a questa storia del costume perché l'hai voluto inserire almeno spiegala in qualche modo ma no, non ci meritiamo una spiegazione perché ci meritiamo questi film del Sony Spider-Man Universe che quest'anno ne vedrà altri due in uscita con Venom 3 e Kraven io spero bene che questi film ci regalino almeno un po' di soddisfazione ormai in Venom non credo più ma magari in Kraven con Aaron Taylor-Johnson sì, speriamo e continuiamo ad essere fiduciosi insomma il primo problema di Madame Web è appunto il villain con Ezekiel Sims che non ha una vera scrittura, un personaggio piatto ed è cattivo perché sì, ha delle motivazioni perché ha visto in sogno delle donne che le uccidevano non avendo dei poteri premunitivi insomma ragazzi il villain è completamente bocciato insomma il villain l'abbiamo sotterrato definitivamente sotto una grande S della Pepsi a LED nel finale un finale che è caratterizzato appunto da una scena in CGI che potrebbe essere stata fatta meglio in quanto comunque quando lei si sdoppia possiamo dire così in tre distinte versioni di se stessa del presente per salvare le tre ragazze appese a questa struttura che sta esplodendo man mano in questa fabbrica i fuochi d'artificio riesce a dividersi ed a salvare entrambe tutte e tre appunto le ragazze in pericolo con questa CGI che ha livelli di flash ma realizzata leggermente meglio fortunatamente il film non ha tantissima CGI perché altrimenti facevamo la fine di Morbius che sarà il mio metodo di paragone da qui in avanti per i prossimi film Sony Morbius non mi è piaciuto assolutamente qui forse qualcosina si salva a partire dalle attrici comunque Davada Johnson il suo l'ha fatto ha comunque presentato un personaggio che di per sé è particolare anche se nel finale la vediamo su una sedia a rotelle senza un reale motivo nello scontro finale con appunto Ezekiel Sims e dopo aver sconfitto il villain appunto ricoperto dalle macerie da questa S gigantesca della Pepsi lei cade in acqua e viene colpita al volto da una scheggia di vetro da un frammento in fiamme e dei fuochi d'artificio che stavano esplodendo però la scena dopo la ritroviamo sana e salva che viene salvata dai ragazzi e quindi poi all'ospedale e nella scena finale la troviamo sulla sedia a rotelle classica che dovrebbe avere Madame Web nei fumetti e sembra paralizzata adesso io mi stavo chiedendo all'uscita in sala con tutte le facce degli spettatori che avevo vicino confuse per il finale per il film in generale gente che abbandona la sala a mezzo film insomma non si è capito bene cosa sia accaduto e perché sia sulla sedia a rotelle forse nella caduta o forse nel frattempo si è continuata a sviluppare quella malattia che è stata accennata in un flashback nel quale lei vede la madre e nel quale appunto capiamo la malattia che ha non lo so ad interpretazione ragazzi scegliete voi fate come volete tanto ormai se alla Sony va bene ma va bene pure a me quindi fate quello che volete scegliete il finale che desiderate e la spiegazione che più preferite tanto non ce la danno è meglio farcela da soli un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso ed è il motivo per cui poi si arriva a questo finale è il modo in cui Ezekiel trova le tre ragazze che stava cercando perché prima, qualche scena prima, lui riesce a recuperare quest'intelligenza artificiale dell'NCA che è un riconoscimento facciale con il quale può aggerare tutte le telecamere della città e tutte le ricetrasmittenti della polizia qui in questo modo riesce a trovare e rintracciare le ragazze ovunque vadano siamo d'accordo quindi loro prima si nascondono in un bosco ma poi decidono di andare a ballare sui tavoli con un pazzo omicida che ti sta inseguendo e appunto Ezekiel le trova e tenta di ucciderle poi invece sul finale quando perché qui troviamo sia Ben Parker che i genitori di Parker Richard e Parker appunto che non vediamo mai è la mamma di Peter Parker Mary che è incinta di Peter ma non ce lo dice mai questo nome perché wow è un easter egg che non dobbiamo sapere perché in realtà qui Peter Parker non esiste è solo un'ombra, un fantasma che la Sony ci ha voluto regalare e quindi continuiamo col dire che sul finale le si rompono le acque a Mary e quindi devono andare all'ospedale Ben deve accompagnare Mary all'ospedale per farla partorire con le tre ragazze che erano appunto in casa con loro se loro uscivano di casa e quindi venivano viste dalle telecamere Ezekiel le avrebbe prese e trovate e appunto avrebbe cercato di ucciderle perché tutte e tre poi vanno con Ben e Mary all'ospedale con Mary in travaglio invece di rimanere a casa al sicuro dove non le avrebbe scoperte nessuno perché sì, perché la trama voleva così perché non avevano delle idee ben specifiche per continuare il film allora io dico vogliamo fare che lui le trova per colpa delle telecamere va bene inventiamoci qualcos'altro perché deve chiamare aiuto e non c'è Ben Parker in casa e magari loro sono costretti ad uscire e andare a chiamare i vicini avrei accettato di più ma con Ben Parker che accompagna Mary all'ospedale per partorire non c'era bisogno che tutte e tre le ragazze andassero con loro ed è per questo che mi sono incazzato veramente tanto perché l'ha stato sul finale ed è il motivo per cui poi Ezekiel le trova e le insegue fino al punto dello scontro sul porticciolo dove poi c'è il finale del proprio del film volevo continuare con una puntina di veleno tornando ai poteri di Ezekiel che appunto ha questo tocco velenifero che se tocca le proprie vittime le uccide e le provoca un arresto cardiaco giusto un riferimento al film che mi ero dimenticato di inserire parlando dei poteri di Ezekiel il quale si può arrampicare come Spider-Man ma non può creare appunto le ragnatelle perché non ha la tecnologia necessaria come detto facciamo un passo indietro perché volevo parlare dei genitori di Peter Parker e di questo fantomatico Spider-Man che neanche viene nominato ci sono delle scene soprattutto una scena capiamo che è Peter che è Peter Parker e durante questo party per il nuovo nascituro vengono tutti, vanno tutti a casa dei Parker regalando dei regali appunto alla mamma incinta e come si chiama il bambino? non lo scopriamo mai perché nel momento in cui Mary dice il bambino si chiama esplode un palloncino e Dakota Johnson ha questi poteri Cassie Webb ha questi poteri che la portano indietro nel tempo di qualche minuto anche qualche ora inconsapevolmente all'inizio nel momento in cui la prima volta riesce a capirlo una delle prime volte Mary Parker sta per dire che il bambino si chiama Peter e lei torna indietro nel tempo alla scena prima con una gag che non è una gag e non fa ridere però per farci credere e farci assaggiare quel sapore di Peter Parker che c'è soltanto un sapore che ho guardando questo film ma non lo voglio dire perché non è cioccolata quindi capiamo che lei ha dei poteri e quando cambia e torna indietro nel passato cambia insomma vuole può cambiare ha la possibilità di tornare indietro di qualche minuto e la regia è psichedelica e delle volte non capivo benissimo cosa cosa stava per accadere molto spesso dovevo rifletterci un attimo ma nel momento in cui stavi riflettendo in quello che avevi visto già era andata alla scena successiva e già ti hai riperso quei cinque minuti insomma ragazzi prendo fiato un film completamente confusionario che voleva darci delle cose che ha soltanto inserito per farci credere che avrebbero inserito Spider-Man per portarci in sala io mi sento preso in giro questa è la terza volta dopo Carnage dopo Morbius e tutti gli altri film Sony spero che in futuro capiranno che questa tecnica non funziona ormai ci siamo imparati abbiamo capito che questi film del Sony Spider-Man Universe non hanno Spider-Man nella pellicola ed è inutile che inseriamo riferimenti battute e vari easter egg riferiti a Peter Parker se non mettete effettivamente Peter Parker la gente smetterà di andare al cinema a guardare i film Sony quindi Sony per favore dacci quello che vogliamo che in realtà non lo vogliamo perché ci siamo anche rotti le scatole scusate ragazzi lo sfogo ma è evidente che Madame Web aveva le potenzialità per regalarci un bel film ma che effettivamente non è riuscito a farlo è meglio di Morbius? sì vale la pena andare a vederlo? sì vale la pena perché fatevi un'idea anche voi in sala ho sentito qualche parere positivo non tantissimi però è evidente che il film non ha per niente centrato il suo obiettivo speriamo per Kraven il cacciatore che uscirà quest'estate ma a questo punto io ho i miei dubbi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui grazie per aver ascoltato il mio sproloquio quindi vi invito a seguirci su Ciaccazione con i link qui sotto in descrizione su YouTube Facebook e di Instagram e ragazzi ancora mi ringrazio buona giornata da Valerio Perrone per avermi seguito